Siamo con Sara Cecala, portavoce della San Gregorio Rinasce Ollus e con Lucio De Bernardinis, assessore comunale di Poggio Vicenze. Oggi c'è stato un importante incontro intorno a quello che è il progetto della variante sud qui all'Aquila insieme al presidente della regione D'Alfonso e a Pietro Ciucci, il presidente nazionale dell'ANAS. Una battaglia intrapresa da molto tempo da vari paesi dell'Aquilano, paese capofila Poggio Vicenze, quindi proprio il suo. Come è andato questo incontro? L'incontro è andato benissimo perché per quanto riguarda me e Poggio Vicenze sembra aver raggiunto la realizzazione di un sogno. Noi praticamente quando siamo partiti più di cinque anni fa, che si parla ormai dell'ammodernamento della strada stradale 17, sapevamo benissimo che nel momento in cui si arrivava a Poggio Vicenze, l'ammodernamento della strada attuale sarebbe stato un serio problema su Poggio Vicenze, in quanto la strada passa proprio dentro il paese. E quindi già da molto tempo si cercavano delle soluzioni alternative e la soluzione appunto che oggi sembra essere stata accolta in maniera positiva dai vertici nazionali dell'ANAS e quindi dal presidente della regione è quella che noi sognavamo ormai più di cinque anni fa. Sostanzialmente che cosa posso dire? Che siamo riusciti a portare, organizzandoci sul territorio, quindi mettendo insieme più voci, più comuni, più popolazione, a portare quello che è un po' il lume della ragione, cioè le nostre sensazioni su quello che poteva essere l'impatto di una strada statale sul nostro territorio, all'interno dei palazzi che contano, dei palazzi dove decidono e finalmente insomma si sta, sembra si stia realizzando questo sogno, io continuo a chiamarlo sogno e perché tale è insomma. Quindi Ciucci ha garantito da parte dell'ANAS un impegno ad adottare il vostro progetto alternativo, quindi alternativo all'originario progetto dell'ANAS? Sembrerebbe sì, sì, ha garantito, ma l'ha garantito, ha raggiù meduta, ha capito, ha compreso e poi ha garantito. E questo per noi è, voglio dire, quando sono partito con l'idea di ostacolare le progettazioni precedenti, di far comprendere insieme all'amica Sara Cicala quale potevano essere i problemi sul territorio, mai pensavamo di riuscire ad arrivare al presidente dell'ANAS che veniva oggi all'Aquila, a Casa Onna, a dichiarare va bene quello che ci proponete. Per noi è un momento di felicità, come devo dire. Un'ultima domanda, in cosa consiste il vostro progetto alternativo e di quanto si discosta dall'originario progetto dell'ANAS? Allora, innanzitutto devo fare un appunto. L'ammodernamento e il rifacimento della strada statale 17 è stata concepita in più tronconi, in più lotti. Ed è questo che poi ha generato una serie di problematiche, perché se si ragiona chiaramente come un tutt'uno riesce a vedere un discorso più pragmatico rispetto al territorio. ragionando per lotti, ed è quello che si è fatto fino all'altro ieri, ci si va a risolvere problematiche contingenti del momento senza preoccuparsi di quelle che potrebbero essere problematiche successive. Nella sostanza sarò sintetico. La variante sud dell'Aquila, che sarebbe il tratto che la parte finale è quella che va dalla strada superstrada, passa tra Monticchio e l'attuale strada e poi tra Onna e Monticchio, in base al progetto dell'ANAS, e quindi il lotto terzo dell'ammodernamento della strada statale, sarebbe impattata sul territorio di San Gregorio in una maniera del tutto invasiva sul territorio stesso, considerando anche che il paese di San Gregorio ha anche la necessità di essere ricostruito e molto probabilmente si sta prendendo in considerazione la ricostruzione del paese, non più nelle zone dove si trovava precedentemente, ma spostandolo leggermente da quella che è una faglia del terremoto, proprio dove doveva in qualche maniera innestarsi la variante sud dell'Aquila sull'attuale strada. Noi ovviamente dalla parte di Poggio Vicenze sapevamo che se l'ANAS arrivava a San Gregorio in quel modo, precludeva a tutti gli effetti quello che poteva essere una soluzione definitiva anche per il territorio di Poggio Vicenze. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ho inteso quello che era la battaglia che stava facendo Sara Cecala rispetto alla tutela del territorio di San Gregorio e degli amici di Onna rispetto al territorio di Onna e li ho contattati, ho contattato Sara e abbiamo condiviso quello che poteva essere un progetto, appunto quello che oggi è stato avallato dal presidente dell'ANAS, che salvasse tutta la situazione del territorio e desse la possibilità non solo di salvare i borghi, ma anche di valorizzare il fiume e quindi di poter fare poi progetti successivi sul fiume di sviluppo e, non da sottovalutare, la possibilità di creare un sistema unico fra i nuclei industriali dell'Aquila, quindi parlo di Pile, Bazzano e Monticchio, con i nuclei industriali degli altri comuni, che si trovano tutti sull'attuale passare. Quindi arrivare a San Gregorio noi chiediamo di fare una variante sud anche a Poggio Vicenze, che quindi metta a sistema il nucleo industriale di Monticchio con il nucleo industriale di Fossa, Poggio Vicenze e San Demetro per poi rinnestarsi all'attuale strada statale dopo Poggio Vicenze, quindi all'altezza del comune di Bariciano, a parte di Son. Sara Cecala, come si inserisce la vostra onlus nel discorso di cinque anni di lotta di questi paesi? Hai detto bene, è stata veramente una lotta. Beh, Lucio ha raccontato gran parte della storia, una storia sofferta perché San Gregorio e Onna in questa battaglia ci hanno creduto dall'inizio, una battaglia che è stata dura, come dicevo, perché nessuno vedeva uno spiraglio positivo, spiraglio che oggi è diventata realtà, un epilogo fortunatamente a lieto fine, per un impatto che avrebbe distrutto il fiume Aterno, una risorsa importante per il territorio aquilano, le popolazioni perché impattava sia sull'abitato di Onna che su quello di San Gregorio, quindi una sana ricostruzione passa per la possibilità di ottenere un miglioramento della qualità della vita, non un peggioramento con una strada che investe l'abitato con rotatori e viadotti. E in più volevamo condividere questo progetto perché il nostro intento sin dall'inizio è stato di trovare la condivisione di un territorio intero, territorio intero vuol dire il comune dell'Aquila e i comuni limitrofi, Fossa, San Demetrio, Villa Sant'Angelo, Poggio Vicenze, che hanno aderito immediatamente attraverso un protocollo di intesa che è stato stipulato già un paio di anni fa per poter presentare a ANAS un'alternativa seria, seria per un territorio che crede nella valorizzazione delle proprie risorse e nelle peculiarità che sono di questo territorio, quindi la salvaguardia dell'ambiente, la salvaguardia dei centri abitati e lo sviluppo economico perché abbiamo posto anche l'attenzione alle aree artigianali che sono sempre in questi anni rimaste isolate da una viabilità seria, quindi infrastrutture serie, veloci ma anche rispettose dell'ambiente. Ecco, nell'incontro di oggi pomeriggio i vertici nazionali dell'ANAS si sono impegnati anche a livello economico a trovare le risorse che poi in realtà è il nodo principale. Allora, per quanto riguarda le risorse, scusate, il lotto C, il terzo lotto Bazzano-San Gregorio è già coperto da risorse e il costo è di 48 milioni di euro, come ci ha detto ANAS. Mancherebbe una parte di questo ulteriore lotto che noi abbiamo agganciato, ma la senatrice Stefania Pezzopane, il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, Giovanni Lolli, il vicepresidente e tutti insieme, come dire, come territorio, hanno garantito che questa possibilità ci sarà, si impegneranno ufficialmente anche davanti al governo a questo punto per trovare i fondi e realizzare un'opera importante. Io vi ringrazio, vi do un grande in bocca al lupo.